Ciao creatora, sono Meccate Splendente, benvenuta, bentornata nel regno di Cosai e ASMR breve intro perché questo video è molto breve, coloriamo insieme ho scelto questa palette di colori autunnali, come puoi vedere ho messo i pennarelli tutti lì a disposizione, li ho controllati prima uno ad uno e scelti appositamente per te, ho creato questo giardino, questo prato pieno di foglie spero di aver reso l'idea, dentro la mia testa lo è e poi ho colorato di marrone per fare la panchina e poi ho provato a fare una texture di legno, simile in legno ma devo ancora esistirlo esercitarmi meglio per questa cosa perché non penso mi sia riuscita benissimo e poi ho appunto colorato tutte le foglie in questi toni autunnali e ho cercato anche di colorare in modo che si vedesse perché mi sono resa conto che nell'ultimo video dove coloro quei pennarelli e tengo il pennarello in un modo e non si vede niente quindi anche se ero un po' più scomoda ho pensato di mettermi così e colorare appunto per mostrarti qua ho fatto un po' di ombre e poi ho deciso appunto di colorare la siepe di questo marroncino e poi ho provato a fare una sorta di sfumatura con del marrone più scuro e dimmi se ho reso l'idea della siepe un po' di novembre sai quando cambio colore non lo so mi piaceva l'idea della sfumatura dal più chiaro al più scuro anche come quasi un'ombra per darle un po' di tipo profondità poi qui visto che c'era il muro con i mattoni ho pensato ma perché non fare tutta la parete di mattoni e così ho alternato tre marroni diversi, tre colori diversi per fare il muro con tutti i mattoni a vista credo si dica così e sì poi ce n'erano solo due di mattoni con il contorno nero ma mi dava come l'idea che fossero più marcati perché non so magari si stavano staccando erano più in rilievo non lo so questa è l'impressione che mi dava il disegno oppure se mi dici mi consigli di contornare tutti i mattoni forse è meglio non lo so comunque il risultato a me piace poi ho colorato i fiorellini poi andiamo sullo sfondo del cielo ho cercato di ricreare se quella è più una sensazione quella sensazione di quando piove e poi arriva la sera e ha smesso di piovere però tutto il cielo sembra un acquerello perché non lo so sembra tipo slavato non so come dire sembra ancora bagnato il cielo anche se magari non ci sono più nuvole però non lo so se ti è mai capitato di vederlo sopra è più scuro e sotto è molto più chiaro dove c'è stato il tramonto anche se il sole è già se n'è andato soprattutto in questo periodo in cui il sole tramonta molto presto spesso quando piove c'è quella sensazione nel cielo e ho cercato di ricrearla in questo disegno non so se ci sono riuscita secondo me sì a mio parere però bisogna vedere se riesci anche tu a percepirla poi all'inizio volevo fare i fantasmini tutti così tipo di un unico colore però poi ho cambiato idea e ho pensato ma perché non provare a farli trasparenti visto che in alcuni video alcune ragazze spiegavano come rendere questa trasparenza sui fantasmini e dicono appunto di ricreare lo sfondo sopra il fantasmino per dare appunto questa idea che fosse trasparente e poi lo vanno a sfumare con il pennarello quello per le sfumature che è quello bianco che in realtà non è bianco ma è trasparente pure quello non so se mi sono spiegata comunque poi ho fatto la lapide quel teschietto sembra un fungo ma va bene lo stesso e ho usato semplicemente dei grigi uno più chiaro uno più scuro anche per la falce del nostro Mr. Cream ho usato sempre i soliti due colori grigi uno più chiaro uno un po' più scuro poi ho colorato il nostro personaggio Mr. Cream e ovviamente cioè valese dovevo fare la veste nera per forza cioè all'inizio volevo un po' scherzare e farla rosa ma ho detto dopo ho detto non ho rovino tutto il disegno anche se non è un colore autunnale però vabbè dai ci stava nera altrimenti avrei dovuto farla morone scuro ma sarebbe sembrato un frate tipo quindi ho detto no poi ho cercato come puoi vedere il grigio perfetto ed era questo e poi mi piace il fatto che con questi pennarelli si può ripassare e fare la sfumatura stessa con lo stesso pennarello e poi dopo qua cercavo dei colori stavo scegliendo i colori per fare il gatto e il cuscino dove il gatto dormiva alla fine ho optato ah beh sì ho optato per questo marrone scuro e perché inizialmente volevo farlo tipo giallo ma dopo ho detto no no facciamolo marrone scuro che è proprio in tema con tutta la palette che ho selezionato ed era un marrone scuro che non avevo utilizzato per nulla quindi ci stava dai dava un po' tocco così color caffè e poi ho fatto di quel giallo lì giallo ocra il cuscino e ho ripassato anche i fiorellini perché non mi piacevano il colore che avevo scelto ho fatto un po' anche di ombre sul cuscino e alla fine aggiungo i punti luce un po' quella in realtà anche un po' a caso onesta sono onesta te lo dico apertamente un po' a caso e però è stato comunque non mi dispiace nonostante fossero un po' random ecco rendono comunque l'idea dai poi sto appunto ogni tanto mi fermo per valutare la situa e aggiungere almeno punti luce poi ho fatto le stelline e come vedi le ho fatte anche dentro diciamo ai fantasmini perché sono trasparenti poi non mi convinceva quello il fantasmino lì e ho voluto sistemare un po' la situazione perché mi sembrava troppo chiaro e così si omogenea di più allo sfondo secondo me sì dai secondo me così è perfetto spero che questo video ti sia piaciuto fammi sapere se ti è piaciuto il risultato finale grazie per il like grazie per essere stata anche questa sera in mia compagnia ti auguro buonanotte buon relax ciao creatura